Sabato e domenica il porto turistico di Andorra accoglierà la seconda edizione di Azzurro Pesce d'Autore, evento di promozione e valorizzazione delle produzioni ittiche e agroalimentari del territorio e delle realtà produttive locali, sia agricole che nel comparto della pesca. La manifestazione, promossa dal Comune di Andorra e ideata dall'Associazione Nazionale della Compagnia dei Sapori, proporrà un ricco calendario di convegne e talk show, laboratori a tema, show cooking, mini corsi e percorsi di degustazione guidati con laboratori per adulti e per bambini. Nelle due giornate si svolgerà anche una mostra a mercato di prodotti di eccellenza ligure e italiana, con oltre 60 imprese agroalimentari provenienti da molte regioni. Azzurro Pesce d'Autore sarà aperto dalle 10 alle 20 ad ingresso libero e tutte le attività proposte saranno gratuite. Grazie Grazie